Comunicare la crisi climatica, questo è il tema della tavola rotonda organizzata da Estra in occasione della presentazione del bilancio di sostenibilità 2022. Siamo consapevoli e per questo abbiamo organizzato questo convegno, che la comunicazione è importantissima. La comunicazione della crisi climatica è fondamentale per fare un passaggio in avanti verso l'adattamento, la mitigazione di una cosa inevitabile, che purtroppo, come ci hanno detto i relatori di questo convegno, è in atto e sarà in atto per i prossimi anni. Una giornata di confronto e condivisione per aprire riflessioni e spunti di approfondimento su un tema non più rinviabile. La mitigazione e l'adattamento sono due azioni che vanno portate avanti parallelamente. La mitigazione vuol dire ridurre il più velocemente possibile le emissioni di gas sera, quindi uscire dal sistema dei combustibili fossili, mentre l'adattamento è cercare di gestire gli impatti che sono già in corso e che inevitabilmente un po' cresceranno nei prossimi decenni. Poi tanto più si fa mitigazione, tanto più faremo meno fatica con l'adattamento perché dovremo gestire un cambiamento climatico minore. Quindi noi sappiamo che andiamo in questa direzione e quindi dobbiamo prepararci, fare dei piani, delle priorità e poi metterci anche gli investimenti, metterci i soldi. La crisi climatica raccontata anche nelle foto di Fabiano Ventura, dello stesso ghiacciaio scattate a dieci anni di intervallo. La fotografia da sempre è stato uno strumento della ricerca scientifica e quindi noi cerchiamo di comunicare le problematiche ambientali, il tema degli effetti dei cambiamenti climatici attraverso una comunicazione emozionale. Emozionale proprio perché crediamo che riusciamo a sensibilizzare, possiamo riuscire a sensibilizzare l'opinione pubblica che è far comprendere appunto i temi che portiamo avanti con questo progetto, quindi la sostenibilità, il risparmio energetico, la salvaguardia appunto degli elementi naturali, delle risorse naturali che purtroppo sono limitate. Questo purtroppo non è una consapevolezza di tutti, ma invece dobbiamo far capire appunto che le risorse naturali sono limitate e sono da preservare.